Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto. Philips Lampada originale LCA3121 per videoproiettore LC1341 tipo, UHP durata lampada. 2000 ore watt. 250. Lampada compatibile LCA3121 per videoproiettori Philips, LC1341, LC1345, PXG30 Impact, PXG30. La lampada compatibile ha una durata di utilizzo di 2000 ore. Le lampade compatibili rappresentano il compromesso ideale per ottenere un prodotto di qualità, a prezzo ridotto. La sostituzione della lampada compatibile si effettua in modo molto semplice. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.